La cosa che mi affascina di più del linguaggio del corpo è la possibilità di creare, di rinventarsi e nel mio caso la possibilità di diventare chi voglio, di elevarmi, la possibilità di capire dove, fin dove mi possa spingere e mi affascina in generale il corpo che è una macchina perfetta e bellissima Ho iniziato a ballare a 11 anni per puro scherzo, mi sono innamorato anche proprio vedendo mia sorella ballare ed è stato un vortice, ci ha preso e entrambi ci siamo da allora sempre divertiti danzando Attraverso la danza io scopro me stesso sempre di più, scopro anche come mi posso relazionare con gli altri ed è un'esperienza continua, una crescita continua Italia, Africa, tantissime cose mi vengono in mente, le danze primordiali, il fuoco, la libertà questa voglia di danzare perché ce n'è l'esigenza e penso che questo rimandi anche alle mie origini ed è una ricchezza, quindi sono tantissime differenze ma anche tantissime cose belle che ci accomunano in primis l'esigenza di danzare, il corpo e la libertà Grazie a tutti Grazie 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 Grazie